Siamo in una stanza civita giuliana, pochi passi da dove è stato trovato il carro cerimoniale, a poca distanza dalla stalla ed è una stanza che si apre su un porticato qui davanti dove appunto c'era il carro che era come vediamo a tempo stesso ripostiglio ma anche un luogo di vita, un luogo dove dormivano almeno tre persone, ci sono tre letti, brandine estremamente semplici, di una tipologia poco nota, quindi possiamo immaginare qua i servi di schiavi che lavoravano in questi spazi venire a dormire la sera e due letti sono un po' più grandi, sono 1,70 m, quindi delle persone adulte, uno è più piccolo, 1,40 m circa, dunque possiamo immaginare per una bambina, un bambino, forse per una piccola famiglia di schiavi ma non lo sappiamo, sappiamo però che era sicuramente una vita precaria in queste condizioni dove c'erano anche anfore, c'erano elementi di finimenti, di briglie probabilmente relativi al carro e c'è appoggiato su uno dei letti quello che sembra essere una parte del timone di un carro, forse proprio di quello trovato qui davanti, che è estremamente bene conservato come impronta, quindi sono materiali deperibili così come anche quelli dei letti che hanno lasciato un vuoto nella cenerite che è stato riempito poi con il gesto, il metodo dei calchi e quindi abbiamo davanti a noi l'immagine, l'impronta di questo oggetto dove si vedono proprio le corde, gli elementi in cuoio, poi c'è anche un po' di ferro, dunque uno spaccato eccezionale della vita quotidiana, del lavoro quotidiano di una parte della popolazione antica che poco nota attraverso le fonti ufficiali che sono sempre o quasi sempre dal punto di vista dell'elite e qui invece vediamo la vita di persone, di schiavi, di servi, di persone di uno stato sociale molto basso. Gli scavi di Civita Giuliana non finiscono mai di stupire, altro ritrovamento eccezionale frutto della sinergia tra la procura della Repubblica di Torre Annunziata e la direzione del Parco archeologico di Pompei. Le attività proseguono anche alla ricerca di un secondo carro.